Ciao a tutti e questo è il mio canale. Ebbene sì, sono nuovamente a girare il trailer del canale perché dopo anni Creazioni Lunari cambia e diventa una Creazioni Lunari Home Edition e soprattutto Mom Edition, nel senso che sono diventata mamma e quindi questo canale si trasformerà, non sarà solo più creatività, ma sarà anche vita da mamma e quindi consigli per le altre mamme, acquisti e quant'altro. Spero che continuate a seguirmi per quelli che ci sono già e ringrazio tutti quelli che mi seguiranno. Un abbraccio a tutti e al prossimo video!